Il pomodoro 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 Rispetto a quella che era la data teorica già prevista un mesetto fa che era l'ultima settimana di luglio o gli ultimi giorni di luglio per esattezza è probabile che si anticipi un 3-4 giorni ma direi che non riusciamo ad anticipare oltre Parlando degli aspetti commerciali come si prospetta questa campagna? Sta risentendo di quelli che sono stati gli esuberi produttivi degli anni precedenti. In area nord si è fatto un contenimento delle superfici, dagli ultimi dati sembrerebbe un 7-8% in meno. Questo dovrebbe lasciare un qualche spiraglio di migliorare un attimino il mercato e soprattutto c'è un altro particolare, si sta togliendo delle ombre abbastanza pericolose che Stati Uniti prima, che con il rapporto euro-dollaro dovrebbe andare fuori mercato quindi non dovremmo più avere la concorrenza degli Stati Uniti e tanto meno della Cina che credo si sia fatta abbastanza male con le ultime svendite che ha fatto e sembrerebbe addirittura che abbia una riduzione del 40% delle superfici. Quindi c'è ancora un momento di pesantezza che potrebbe perdurare per alcuni mesi, però si intravede un po' di luce in fondo al tunnel e forse stiamo arrivando fuori dal tunnel sperando che il mercato di un po' più soddisfazione rispetto alle ultime due annate che devo dire commercialmente sono state disastrose.